Eccoci qua, ragazzi, siamo io, Fabri Giotti, vi abitrò per il successo, come sempre, Morciano. E io, Nazio Mattia, il boss dei boss, il più figo. Lui è un grande figione. Sì, sì, sono il principale scenario. Andiamo qua. Bene. Oggi vi mostreremo, starei in greco del 1929, vi mostreremo Morciano e i suoi piccoli particolari. Che questo episodio sarà due parti, questo che è la prima. E ora, e ora, incredibilmente... Siamo arrivati a Morciano! Morciano! Oh, per colpo! Oh! Stavo l'olto! Ma sei l'olto! Vieni qua! Ma le puoi puoi a fine. Dai, devi accettivare. Ecco, come si è successo. Ecco, lui, Dani, e io, i denti. Un morchino! È arrivato un morchino! Un morchino! Un morchino! Bene, allora... Andremo... Andremo a mostrarvi... Tutti i negozi. Un morchino! Mi ha cavato il bambino, era morto, quindi... Un morchino! Arrivederci, alla prossima! Mi sbaglio! Con il sito di quel morchino!